eccoci raga nuovo video ragazzi il canale sta crescendo però gli iscritti sono sempre meno delle visualizzazioni quindi riusciamo a iscriverci basta cliccare qua sotto ci vuole un secondo non serve niente non costa niente a nessuno intanto oggi girettino a caso proprio è l'anteriore lì poi ci saluta buono dai ho paura c'è stato un po' di un po' di di rischio era molto più importante la grigliata che veniva dopo tira tu fa tiro io un pezzo di legno aspetta un pezzo di legno no oh vai sbagliato curva divertente come sempre la Mondraker funziona alla grandissima è un'amici che più gli si dà fiducia e più ripaga il problema è che bisogna star sempre attenti perché si va abbastanza forte infatti proprio per questo stiamo organizzando una serie di corsi che portano anche chi compra la bici e chi non è super professionista oppure non va in bici da tanto ad avere un minimo di consapevolezza di quello che sono corsi finalizzati a questo e cercheremo di portarli avanti il più possibile tanta roba insomma e niente guardiamoci un paio di un paio di jolly e ci vediamo al prossimo video con cose nuove da provare si riscoprono nuovi sentieri il little giovane ma andiamo un po' a caso proviamo la unica è provare andiamo piano però ragazzi eh piano nel senso piano così eh la curva 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 www.mesmerism.info visuale top vediamo dei salti vediamo Giorgio il terreno un po' pieno che ne guardo per entrare dentro il canaletto per qua occhio c'è un altro di due occhio eh sei da solo? no ok ciao grazie grazie c'è una burro qui no qui no ci prova ma non va c'è una burro qui ciao 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 Grazie.